Allora siamo praticamente adesso dopo tre ore e mezzo di navigazione siamo quasi arrivati diciamo circa otto chilometri fa un freddo boia il vento che c'è boia il lago mosso e noi comunque siamo sempre qui comunque adesso vi faccio vedere un attimo che giro ecco queste sono le condizioni ciao comandante queste sono le condizioni del lago ma adesso si è calmato un po siamo dietro la punta comunque stiamo andando ecco di la guardiamo anche di la nebbia vento freddo e noi ho portato anche le occhiali da sole stamattina comunque sono tornato io no è tornato lui ok comunque niente spero penso che arriveremo tra un'oretta quando appena arriviamo andiamo a mangiare comunque è stata una bella attraversata diciamo che abbiamo entrato su anche il fioco la c'è il fioco pronto in caso il motore ci abbandona il motore ci ha abbandonato ma poi dopo ripartito normale amministrazione ok comandante saluto a tutti comandante saluta io saluto e se vedevo come si dice ok ciao a tutti quando si riesce stare fermo torno sotto coperta che vi faccio vedere anche un po sotto coperta eccoci qua sotto coperta è una barca un po sportana ma c'è tutto poi metteremo anche i cuscinetti eccetera eccetera ciao a tutti allora aspetta che di giro ciao a tutti ci vediamo magari dopo mangiato se non si scarica la batteria ma che comandante saluta mica c'è i piedi gelati le mani gelati e un po anche le gelate ciao